L'istigazione alla corruzione l'accusa nei confronti di un imprenditore e tre funzionari comunali originari di Cannalonga, Santa Marina e Castellabate. I tre raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania sono stati arrestati alle prime luci dell'alba nella giornata di ieri. L'indagine condotta dai carabinieri di Pollica è partita dal mese di febbraio e grazie alla denuncia del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Pollica, Domenico Giannella, che ha riferito di essere stato contattato da un imprenditore locale che aveva chiesto, dietro compenso, cioè la somma di 10.000 euro, la giudicazione della gara per il rifacimento della rete fognaria del comune di Pollica. I tre funzionari sono stati incastrati, elemento importante dell'operazione top secret durata due mesi, le intercettazioni telefoniche e le cimici nascoste che hanno svelato particolari fondamentali. Dispiaciuto che purtroppo si continui a vedere la pubblica amministrazione come un luogo di illegalità e di inefficienza, tuttavia la storia del comune di Pollica è contraddistinta da sempre dalla ricerca continua della correttezza e soprattutto di una pubblica amministrazione rivolta al benessere dei cittadini. A dichiararlo è Domenico Giannella, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Pollica, che ha denunciato i fatti. Siamo stati da sempre molto chiari nel sottolineare l'impossibilità per chiunque di utilizzare la corruzione quale strumento per superare le regole, come è già accaduto in passato, anche questa volta convintamente continuiamo a proseguire per la nostra strada fatta di amore per il proprio lavoro e correttezza. A Pollica abbiamo scelto ancora una volta di rimanere con la schiena dritta per tenerci stretto il nostro futuro e di continuare a lottare, questo invece il commento del primo cittadino di Pollica, Stefano Pisani, nei confronti di quanto accaduto. A Pollica sappiamo che la pubblica amministrazione e il bene collettivo, sottolinea Pisani, sono un privilegio che va onorato con sacrificio e convinzione. A Pollica siamo convinti che non tutto è perduto perché c'è gente come Domenico Giannella che hanno scelto da che parte stare. Grazie Domenico, orgoglioso di te, è stato un periodo lungo e faticoso. Abbiamo condiviso ansia e preoccupazioni per poter dire qui quel fiume di fango non passerà mai e grazie anche all'arma dei carabinieri ce l'abbiamo fatta anche questa volta, conclude il sindaco Stefano Pisani.